Vi siete chiesti effettivamente quanti soldi si spendono durante il Black Friday? Beh, se ve lo siete chiesti, questo è il video che fa per voi. Mi raccomando, guardatelo tutto, che vi faccio vedere tutti i soldi che si spendono, che appunto li spendo io in questo video, questi milioni, e mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra offerta preferita di questo Black Friday. In questo video, ragazzi, spenderemo veramente un botto di soldi con questo account tra virgolette povero rispetto al mio altro account. Come vedete ho 21 milioni, quasi 22 milioni, e sono rango 57. Questo è un account che uso prevalentemente la sera in live qui su YouTube e che ho iniziato praticamente con voi qui in live ad agosto. Siccome su questo personaggio ho pochissime cose, questo Black Friday è veramente una mano santa dal cielo perché acquisterò moltissime delle cose che sono in offerta questa settimana. Infatti, oltre a spendere veramente un botto di soldi e quindi così vi divertite a vedere me che spendo i soldi, cosa molto rara che vedete, insomma, perché mi dite che non spendo mai una lira, in questo video spenderemo un bel po' di soldi, quasi tutti, mi sanzi, i soldi che ho accumulato, ma acquisteremo tutte cose che ci serviranno all'interno del gioco, infatti sono anche tra le top 5 cose che vi consiglio onestamente di acquistare adesso al Black Friday se ancora non le avete e se avete i soldi a disposizione. Tra parentesi, se non sapete come fare soldi, andate sul mio canale pieno di video su come fare soldi in GTA Online. Vi consiglio di vedere quei video in modo tale che capite anche voi come iniziare. Se state iniziando adesso, insomma, c'è anche la guida che ho iniziato poco fa su Next Gen. Quindi per tenere un conto, come vedete, ripeto, abbiamo 22 milioni circa adesso, vediamo poi a quanto arriviamo, così tiriamo un attimo le somme e vediamo effettivamente a quanti soldi rimango. Le offerte le trovate tutte qui su internet. Io direi di partire innanzitutto con delle offerte che in realtà non sono esclusive per il Black Friday e tra parentesi vi ricordo che le offerte del Black Friday che sono iniziate oggi, il 25 di novembre, venerdì, dureranno fino a lunedì 28 di novembre. Quindi potete acquistarle sia domani, dopodomani e anche lunedì, probabilmente solo fino alle 10 del mattino. Non sono sicuro sull'orario. Se le acquistate entro domenica sera è meglio, perché lunedì potrebbero essere già tolte. Quindi, come vi dicevo, le offerte invece settimanali che sono già iniziate a partire da martedì, anche quelle sono veramente ottime. Tra l'altro, tra parentesi, se volete sapere tutti gli sconti che ci sono questa settimana e tutte le cose che hanno aggiunto, potete vedere il video dell'aggiornamento settimanale che ho caricato martedì. Se invece vi interessano sapere tutti gli sconti e la somma degli sconti che ci sono durante il Black Friday, ho fatto anche un video per quanto riguarda quello che ho caricato invece ieri. Detto questo, iniziamo subito, non perdiamo altro tempo e mi raccomando, raga, lasciate un bel like se ancora non l'avete fatto che mi date veramente una grandissima mano. E ovviamente grazie mille a tutti quelli che lo fanno. Come prima offerta io direi di iniziare dal bunker. Come sapete, il bunker lo consiglio veramente un botto sia come business, ma in realtà un'altra cosa molto utile del bunker, che non so se sapete, è il fatto che potete modificare le vostre armi, rendendole MK2. Praticamente qui all'interno del bunker ci sono delle ricerche che vanno fatte. Se volete saperne di più c'è il video completo sul bunker sul mio canale, dove appunto spiego tutte queste cose. E praticamente possiamo sbloccare, per esempio, le munizioni esplosive per il cecchino, possiamo sbloccare le munizioni incendiarie, le munizioni perforanti, eccetera, eccetera. Quindi possiamo ottimizzare veramente un botto le nostre armi, migliorarle al massimo e renderle fortissime. Detto questo, come vedete, normalmente questo bunker qua in particolare costa 1.950.000 dollari, attualmente in sconto sarà 975.000 dollari ed è veramente ottimo. Personalmente vi consiglio questa posizione, soprattutto se acquistate anche la Clubhouse. Io in questo caso consiglio sempre questa qui, se la acquistate proprio voi di tasca vostra, che è quella che costa meno, ma anche come posizione ottima, perché avete il business della meta qui, il business della coca qui, e poi avete anche volendo il business delle banconate qui. Quindi praticamente nell'arco di questo raggio di circa 2 km avete ben 4 business. Quindi acquistiamo innanzitutto subito il bunker, 975.000 dollari. Volendo potete fare anche le modifiche. Alcune di queste modifiche saranno utili, tra virgolette, altre invece non saranno utili. Per esempio, all'interno del bunker tutte le cose sono, secondo me, finalizzate esclusivamente allo stile, quindi all'aspetto del vostro bunker, cosa che non cambierà e non influirà il vostro utilizzo del bunker. Quindi se avete pochi soldi, non è il mio caso, però vabbè, se avete pochi soldi, potete evitare di scegliere queste modifiche, perché ripeto, è puramente una cosa estetica. Le funzionalità non cambieranno e nessuna di queste modifiche cambierà le funzionalità. L'unica cosa che secondo me potrebbe avere un senso è l'alloggio personale, perché l'alloggio personale vi permetterà di poter mettere lo spawn all'interno del vostro bunker. Se non avete l'alloggio personale, non potete spawnare all'interno del bunker, se per esempio cambiate sessione o cose così, ma in questo caso non ve lo consiglio, perché ho già l'alloggio personale all'interno della Clubhouse, che praticamente è qui, di fronte al bunker, e quindi praticamente non avrebbe senso spendere questi 132.000 dollari. E comunque, tra parentesi, vi dico, se proprio volete fare delle modifiche, approfittate adesso, perché comunque le pagate molto meno, quindi se veramente le volete fare, fatela adesso. Per quanto riguarda il poligono di tiro, in realtà è un poligono di tiro, quindi vi potete allenare, eccetera, eccetera, lo potete fare anche, se non mi sbaglio, gratuitamente all'interno della Munation, quindi non c'è bisogno di spendere questi 370.000 o 422.000 se prendete questo bianco. L'armadietto delle armi vi permetterà di custodire le armi, personalmente io non ho mai utilizzato in tutta la mia vita un armadietto delle armi all'interno dei GT Online, però se a voi serve può essere utile, 87.000 dollari è più che accettabile. E per quanto riguarda il trasporto, in realtà non ve lo consiglio più di tanto, perché dal mio punto di vista è abbastanza inutile, non ho mai utilizzato il trasporto all'interno del bunker, che comunque ho sull'altro account, il mio account principale dove ho 150 milioni, praticamente lì non ho mai utilizzato questi caddy, quindi sinceramente non vedo perché acquistarli. Per cui l'unica cosa che effettivamente mi acquisto è lo stile del bunker, perché effettivamente mi piace molto di più vederlo con questo stile qua. Alla fine sono 145.000 dollari, un po' di personalizzazione effettivamente gliela mettiamo a questo bunker, se no veramente molto rudimentale. Una volta acquistato il bunker, poi ci saranno da acquistare anche delle cose all'interno del bunker, che quelle vi consiglio di acquistare, dopo ve le faccio vedere così capite bene. Quindi intanto acquistiamo per 1.120.000 dollari, ottimo affare direi, perché normalmente ripeto costa 2 milioni, con la modifica avremo speso all'incirca 2.300.000, per cui acquistiamo, e abbiamo già scalato 1.100.000, già siamo a 20.870.000. In realtà questa settimana ci sono veramente tante offerte, ripeto trovate il video completo sul mio canale che ho fatto uscire ieri, personalmente queste offerte non ve le consiglio, soprattutto queste due perché sono veramente soldi buttati a mio avviso, e secondo me le uniche altre offerte che veramente vale la pena acquistare si troveranno all'interno del Warstock. Questa settimana avremo la possibilità di acquistare l'Avenger in offerta, personalmente l'Avenger non è un veicolo che ho utilizzato mai così tanto, l'ho su un account, ma onestamente preferisco acquistare il Terrorbyte che tra l'altro costa anche meno, anche se non è in offerta, costa meno e praticamente ha le stesse funzionalità dell'Avenger, anzi la cosa veramente buona del Terrorbyte è che mi permette di poter acquistare poi l'Aoppressor MK2, cosa che vi consiglio di acquistare questa settimana se ancora non ce l'avete, eccola qua, con il prezzo speciale, dove praticamente vedete se l'acquisto col prezzo speciale, anziché praticamente 2 milioni, la vado a pagare un milione e mezzo, quindi mi risparmi un altro mezzo milione sull'Aoppressor MK2, chiaramente per averla in sconto devo innanzitutto acquistare il Terrorbyte e quindi mi parte un milione e 375 mila dollari senza modifiche, cosa che però dovete fare, perché comunque dovete fare almeno la modifica dell'officina specializzata, l'officina specializzata vi permetterà come vedete di modificare e conservare l'Oppressor MK2, infatti vi ricordo che se acquistate l'Oppressor MK2, per poter mettere i missili sulla vostra Oppressor MK2, vi servirà questa officina specializzata, senza di questa non lo potete fare, quindi siccome noi l'Oppressor MK2 la dobbiamo comprare e gli vogliamo mettere i missili, vi consiglio di acquistare, ripeto, prima il Terrorbyte in modo tale che vi risparmiate poi almeno quel mezzo milione, ora che è in offerta, se non fosse stato in offerta ancora di più, sull'Oppressor MK2. Tanto, ripeto, per l'ennesima volta, vi servirà per forza perché dovete mettere i missili, perché senza i missili l'Oppressor MK2 è buona per carità, ma i missili sono quella cosa in più che veramente servono, fidatevi di me perché sono indispensabili. Quindi andiamo ad acquistare anche il Terrorbyte, questo purtroppo non è in offerta, se lo avete già molto meglio, insomma, almeno non dovete spendere questo 1.870.000 che spendo a prezzo pieno, quindi acquistiamo il Terrorbyte, ok, acquisto completato, siamo scesi a 19 milioni di dollari, quindi qua già stiamo facendo spese pazze, 3 milioni già se ne sono andati così. Un altro veicolo che vi consiglio di acquistare, se non lo avete, è la Toredor, la Toredor è veramente ottima, costa normalmente 3.660.000 dollari, come vedete adesso la troviamo a metà prezzo a 1.830.000 dollari. La Toredor secondo me è tanta roba perché innanzitutto la potete parcheggiare all'interno del vostro sottomarino Kosatka e fungerà anche essa da una sorta di sottomarino, mini sottomarino all'interno del vostro sottomarino. Praticamente questa è ottima se dovete esplorare per esempio gli oceani, dove ci sono delle missioni dove dovete andare alla ricerca dei tesori, se volete, io personalmente non lo faccio, però se avete voglia di farlo lo potete fare, vi conviene farlo con la Toredor perché è super super comoda. Inoltre la Toredor ha degli ottimi missili e se andate su strada ha anche un boost che se premete va velocissima sostanzialmente. Quindi la Toredor secondo me è un acquisto da fare adesso durante il Black Friday perché ripeto vi risparmiate 1.8.000.000 sostanzialmente. Quindi acquistiamo anche la Toredor, l'andiamo a mettere nell'Eclipse Tower nella suite Attico 3, spendiamo un altro 1.8.000.000, scendiamo a 17.000.000, mamma mia raga, per fare i soldi comunque ci ho messo veramente un botto di tempo a spenderli un attimo. Cioè nell'arco di nemmeno 5 minuti, non so da quanto sto registrando, 10 minuti ho speso già 5.000.000. E anzi, devo essere grato che c'è questo sconto del 50% su praticamente tutto quello che devo acquistare perché se no veramente mi sarebbe partito tutto, tutti i 22.000.000. Tra l'altro raga, se ancora non l'avete fatto, molto importante, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete tutti i prossimi video. E a proposito di nuovo di guadagnare soldi, siccome ne abbiamo spesi tanti, se li volete recuperare, domani uscirà anche il video su come guadagnare 100.000.000 in GT Online. La mia serie che ho avviato poco tempo fa, quindi se volete vederla, quella è proprio tutta la serie dove spiego e faccio vedere come si fanno soldi in GT Online. Da 0, quindi da rango 1, fino ad arrivare appunto al nostro obiettivo che sarà 100.000.000. La Scrum Jet in realtà è un altro ottimo veicolo che vi consiglio, però per quanto riguarda me non l'acquisterò per il semplice motivo che questo tipo di veicolo lo trovo abbastanza simile alla Toreador. Quindi avendo già la Toreador che più o meno mi funge da quel veicolo, in realtà se acquisto questo non uso quella o viceversa, quindi lo trovo un po' inutile. Per cui, se vi piace la Scrum Jet, secondo me è veramente molto bella, è veramente molto veloce, ha il boost anche questa e ha questo prezzo secondo me da prendere, se vi piace questo tipo di veicolo. Come vi dicevo, dobbiamo acquistare l'Oppressor, ma per sbloccare il prezzo speciale dell'Oppressor che costa un milione e quattro questa settimana, come vedete, dobbiamo completare 5 attività dei clienti come boss, CEO o presidente di un MC. Per quanto riguarda questa cosa, raga, queste attività le potete fare dall'interno del vostro Terrorbyte, per quello vi ho detto che dobbiamo acquistare il Terrorbyte. Perché oltre a servirci per modificare l'Oppressor MK2 e mettergli i missili, ci servirà anche per fare queste 5 attività dei clienti. Un'altra cosa che consiglio in realtà di acquistare questa settimana è la del AXO. In realtà la consiglio solo ed esclusivamente a quelle persone che non pensano di utilizzare tanto l'Oppressor. La del AXO praticamente è un'auto che può fungere sia da auto, non ha il boost però, a livello di auto, ma può volare. È una cosa veramente ottima. La del AXO è uscita prima dell'Oppressor MK2, infatti sul mio account, quello principale, io ho acquistato prima la del AXO perché era un veicolo che dovevi avere al tempo, poi quando è uscita l'Oppressor MK2 ho acquistato questa e la del AXO non l'ho mai più usata. Tuttavia, la cosa buona della del AXO è che i missili sono molto più precisi e molto migliori rispetto a quelli dell'Oppressor, più che altro perché l'Oppressor recentemente è stata depotenziata dalla Rockstar perché prima aveva gli stessi missili della del AXO, ma adesso avendo i missili depotenziati i missili della del AXO sono decisamente superiori. Non voglio dire che sono infallibili, ma quasi. Per quanto riguarda questa, purtroppo in volo praticamente è lenta la metà dell'Oppressor MK2 perché se non erro questa dovrebbe andare a 60 migliorari in volo vado a memoria quindi se mi sbaglio fatemelo sapere nei commenti mentre l'Oppressor se non erro arriva ai 120-130 almeno per quanto riguarda il contachilometri quello che vi segna lì davanti insomma quando guidate. Casomai raga ricordo se dico frescazzo all'interno di questo video fatemelo sapere nei commenti che per carità può essere che qua e là magari sbaglio qualcosa. Per quanto riguarda questa se volete sbloccare il prezzo speciale vi servirà la base operativa che vi permetterà di avviare i colpi di Lester dell'Apocalisse e in realtà non so quanto vi convenga perché comunque sì lo sconto è di mezzo milione però dovete acquistare innanzitutto la base operativa e una volta acquistata la base operativa dovete fare appunto la missione di preparazione intercettazioni segnali del colpo dell'Apocalisse come leader mi raccomando quindi lo dovete avviare voi e per quello vi serve la base operativa per forza non potete partecipare alla preparazione di qualcun altro quindi se volete la mia opinione onesta nuda e cruda se non avete la possibilità e non avete tempo acquistatela a prezzo pieno senza lo sconto sì so che magari questi 600.000 dollari circa di differenza facevano comodo però comunque se non avete il tempo di acquistare e di fare questa missione acquistatela direttamente per quanto riguarda la modifica invece della Deluxe la potete modificare all'interno del centro operativo mobile per esempio e se non erro anche all'interno dell'Avenger non ne sono sicuro perché ripeto l'Avenger non l'ho praticamente mai usato ma sono piuttosto sicuro che nel Terrorbyte non la potete modificare perché il Terrorbyte ha solo lo slot piccolino per ospitare appunto l'Oppressor MK2 un'altra cosa che in realtà potreste pensare di poter acquistare durante il Black Friday sempre parte del colpo dell'Apocalisse e di quell'aggiornamento è il Chernobog il Chernobog è un veicolo molto molto divertente in realtà non ha chissà quale grande utilità giusto per divertirsi un po' però se non volete acquistare il Chernobog praticamente potete acquistare la batteria missilistica che c'è all'interno del Terrorbyte più o meno è la stessa cosa non proprio però se non volete acquistare il Chernobog potete acquistare quella per quanto riguarda le altre offerte in realtà raga io non mi sento di consigliare altre cose per esempio l'Alconost secondo me è uno spreco di soldi personalmente ripeto per il mio stile di gioco poi chiaramente se a voi piace se a voi serve prendetelo insomma chi sono io per dire cosa dovete prendere o cosa no insomma ragionate sempre con la vostra testa e acquistate quello che vi serve a voi ok intanto qua in GTA se è fatto notte ho iniziato praticamente che erano le 11 del mattino ma è mezzanotte quindi già è passato effettivamente un bel po' di tempo come vedete il Warstock ci avvisa ah è un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire cosa importante tra l'altro in alto a sinistra come vedete adesso il bunker è disponibile come vi dicevo è praticamente dall'altra parte della strada della Clubhouse quindi raga basta che uscite dalla Clubhouse che ha appunto l'alloggio attraversate la strada aspettate che ve lo faccio vedere e praticamente siete al vostro bunker eccolo lì dove c'è il pallino giallo quindi secondo me l'alloggio è abbastanza sprecato per fare questo piccolo tragitto insomma vi dicevo l'altra cosa importante che ho dimenticato di dire per quanto riguarda lo sconto dell'Oppressor MK2 cosa che io già ho dovete avere anche un Nightclub se non ricordo male è necessario anche il Nightclub perché il Nightclub ha la possibilità di contenere al suo interno il Terrorbyte e quindi se non avete il Nightclub non potete acquistare il Terrorbyte mi pare che era così perché da tanto che effettivamente non faccio un acquisto combinato però di solito io acquisto sempre prima il Nightclub ma in generale il Nightclub dovrebbe servire quindi se non avete il Nightclub vi consiglio di acquistare anche il Nightclub questa settimana che purtroppo non è in offerta lo so però ripeto a mio avviso è buono per avere quello sconto in più sull'Oppressor MK2 e comunque serve perché è indispensabile per poter mettere i missili e per rendere più completa l'Oppressor MK2 per quanto riguarda la posizione del Nightclub io preferisco onestamente questa posizione qua perché è quella secondo me meglio collegata e rapporto qualità prezzo trovo sempre meglio questo Nightclub ed è anche quello con il quale io mi sono sempre trovato molto bene il Nightclub che secondo me vi sconsiglio un po' è questo qua che tra l'altro è quello che costa meno più che altro perché è molto molto lontano quindi se vi fate delle vendite dal Nightclub o comunque fate altre attività ogni volta arrivare qua giù è un po' una rogna mentre se ce l'avete qua in centro città è molto più comodo e tra l'altro se utilizzate l'auto come veicolo di spostamento siete collegati a tutte le autostrade principali per andare in tutte le direzioni all'interno della mappa così facendo sostanzialmente concentreremo un tipo di business cioè il business del CEO praticamente metteremo la Mates Bank appena mi va e l'agenzia che se non mi sbaglio ho già acquistato e dovrebbe trovarsi qua così in questo raggio di circonferenza abbiamo CEO Nightclub e agenzia mentre in quest'altro raggio abbiamo tutti i business dei biker più il bunker allora come vedete sto entrando per la prima volta almeno per quanto riguarda questo account all'interno del bunker chiaramente ogni volta che entrate all'interno per esempio ecco qua del bunker adesso oppure del Nightclub e di altri business vi farà sempre una cinematica di introduzione dove in generale in linea di massima vi spiega all'incirca che cos'è questo business purtroppo non si può saltare altrimenti lo salterei quindi vi dovete esorbire tutta questa cinematica se l'avete già vista fate altro nel mentre insomma se non avete voglia di stare qui a sentire a leggere queste cose per l'ennesima volta se è la prima volta invece ascoltate e comunque un minimo vi fa capire all'incirca come funziona mamma mia raga non mi ricordavo che era così lunga sta cinematica finalmente possiamo utilizzare noi il personaggio ed è finita sta cinematica mamma mia è lunghissima veramente ci ho messo una giornata per vedere tutto come vedete comunque lo stile secondo me ci sta da cambiare perché è molto molto più vivace perché sennò veramente pare un mortorio sto bunker tutte le cose relative al bunker si fanno qui da questo portatilino io già ve lo dico e chiaramente dovete essere o ceo o mc personalmente io preferisco fare il ceo perché se fate le mc e state lavorando a questo business ma avete della merce all'interno dei vostri stabilimenti delle mc vi possono attaccare se invece fate la segura serve non vi attaccheranno la merce produrrà comunque lo dico magari per chi è un po' più ferrato se non sapete di cosa sto parlando invece vi consiglio di andarvi a vedere i video appunto della serie su come fare soldi dove appunto spiego tutto con più calma quindi detto questo avviamo l'organizzazione ci sediamo vi ho fatto vedere anche come si avvia così lo sapete perché in tanti video me l'hanno chiesto come si avvia ci sediamo premiamo x io che sono da ps4 e come vedete qui dobbiamo fare l'allestimento una volta che fate dell'allestimento che è semplicemente una missione dove dovete andare a prendere un veicolo e tornate qua automaticamente si sbloccheranno tutte le altre opzioni tra queste altre opzioni che si sbloccano ci sarà l'opzione appunto delle ricerche cosa che appunto vi dicevo prima dove sostanzialmente potete migliorare le vostre armi sbloccare appunto le cose per migliorare le vostre armi oltre a questo potete guadagnare con le vendite dal vostro bunker dove si guadagna veramente molto bene ripeto lo spiego nel video dove parlo del bunker e per quanto riguarda dei progetti di ricerca già vi dico sono 51 purtroppo se li volete fare senza pagare ci mettete veramente un botto di tempo se volete velocizzare le cose dovete pagare mi sembra costi tipo 230.000 vado a memoria o 235.000 per schippare ogni ricerca appena c'è una tacca di progresso ricerca e quindi fate 235.000 o quello che è insomma fate circa 200.000 per 51 ricerche se le volete sbloccare tutte personalmente io mi fermerei poi alle ricerche che vi servono cioè se per esempio volete solo le munizioni esplosive da mettere sul cecchino mk2 fermatevi a quello appena ci arrivate insomma se siete fortunati e ci arrivate il prima possibile vi fermate e vi risparmiate gli altri soldi poi in base alla ricerca che vi serve chiaramente organizzatevi siccome questo comunque non è un video dove voglio spiegarvi come funziona il bunker e voglio farvi spiegare le altre cose insomma ma è un video effettivamente dove acquisto eccetera eccetera volevo comunque sempre darvi un paio di consigli che alla fine lo faccio sempre in tutti i miei video l'ultima cosa ripeto che devo acquistare è l'oppressor mk2 purtroppo per acquistarla con lo sconto come vi dicevo devo fare queste 5 missioni qui dal terror byte è molto semplice come vedete qui c'è questo schermo come si vedeva da questa immagine aspettate che appena torna ve lo faccio rivedere eccolo qua lo schermo comunque così lo capite all'interno si trova entrate andate a quello schermo dovete essere ceo vi ho fatto vedere prima ripeto come si fa il ceo e automaticamente da lì poi potete fare queste missioni già vi dico lo so a memoria ci sono diverse missioni le prime due le avete sbloccate le prime due tipologie basta che fate la prima e la seconda le fate per 5 volte non ciascuna ma per 5 volte complessivamente quindi potete fare 3 volte la prima e 2 volte la seconda per esempio o 5 volte la prima se vi va a seconda di quello che volete fare io personalmente faccio 3 e 2 oppure 2 e 3 insomma così un misto perché comunque c'è sempre un tempo di attesa tra una e l'altra per cui durante il tempo d'attesa fate l'altra e una volta che avete fatto queste 5 missioncine penso ci mettete in oretta massimo 2 orette automaticamente se avete il nightcap se avete il terror e avete fatto queste 5 missioncine vi si sbloccherà il prezzo speciale dell'oppressor mk2 in questo momento ripeto io non posso acquistarla e non la vado ad acquistare a 1 milione e 9 perché voglio farmi le missioni risparmiare sto mezzo milione non la posso acquistare adesso non voglio nemmeno fare un video troppo lungo e non mi va di acquistarla stasera o comunque di far uscire il video domani anziché oggi quindi teniamo conto all'incirca di aver speso un milione e mezzo per cui da 17 milioni e 100 mila scenderei per l'esattezza 15 milioni 711 mila e 516 dollari quindi sostanzialmente all'interno di questo video nell'arco di 10-15 minuti ho speso la bellezza di 7 milioni di dollari se non mi sbaglio sì all'incirca 7 milioni di dollari raga come volano questi soldi e tra parentesi ripeto per fortuna che non mi sono dovuto comprare adesso il nightclub perché in alternativa ci avremmo dovuto mettere sicuramente altri 2 milioncini circa quindi raga se vi siete chiesti quanto si spende durante il black friday se si vogliono acquistare tutte le cose utili e tutte le cose che io personalmente vi consiglio ecco qua si spendono 7 milioni se avete già il nightclub altrimenti se avete già qualcosa scalato insomma vedete voi quanto si spende però all'incirca se comprate veramente tutto compreso anche il nightclub andate a spendere all'incirca sui 9 milioni 8 milioni 9 milioni massimo 10 comunque quindi questi secondo me sono i soldi che vanno investiti durante questo black friday per le cose secondo me essenziali che vi ho fatto vedere che sono in offerta e anche quelle che sono necessarie da prendere per prendere lo sconto appunto sull'oppressor per il resto le altre cose che sono in offerta ripeto se vi piacciono avete la disponibilità economica e le volete prendere sicuramente meglio prenderle adesso in offerta rispetto a prenderle a prezzo pieno quindi prendetele non badateci insomma e poi per rifarvi i soldi ci sono tutte le mie guide e detto questo spero che il video vi sia piaciuto raga mi raccomando fatemi sapere qualsiasi cosa qua sotto nei commenti lasciate un bel like iscrivetevi ripeto se ancora non siete iscritti per non perdere i prossimi video che domani esce un altro video e stasera saremo anche in live qui sul canale detto questo datri è tutto un salutone alla prossima bella ciao raga